E rieccoci su Yokey Watch 4, oggi tornano le missioni blasters, come ho detto farò un episodio missioni storia e un altro missioni blasters Oggi però ci tocca affrontare purtroppo un'altra missione blasters legata a Ter Maiale e a tutta la sua maledettissima stirpe È una missione di livello 20, io ho il livello 30, con tutti i miei principali alleati, ovvero loro 4 O si va di Severitor o si gioca secondo le regole, fate voi Comunque ancora su Ymo, Ter Maiale, quello che è purtroppo è una missione che richiede tempo E le missioni che richiedono tempo purtroppo sono le peggiori Allora direi di non scontrarci a tutti i costi, aspetta un po' Dicevo non scontrarci a tutti i costi, ma dato che c'è lui Andiamo va, facciamo prima Noto che qua ci sono le sfere, vedo, però dalla parte opposta sta il nostro amico Direi di fare la strada così e poi dopo lo incontriamo Eccolo qua, va Arrivo, caro Che bello che gli facciamo danno così Ah, che bellezza, guarda, gli corro attorno Ah, eccolo qua Ma perché ci ritroviamo sempre alle terme? Bellissimo domanda, Sergente Quadro Oh, perfetto, vai mo Picchiatelo Praticamente che succede? Quando tu lo raffreddi con l'acqua, perché lui è un fuocato Hai una piccola chance di fargli del gran male Per fortuna E perde un sacco di sfere Bene, bene, bene Ok, è fatta Bene Oh, yeah Eh, Yogatta per davvero, speravo di non doverla fare più La super moneta Oni? Andiamo a provarla subito Eh, non lo so, Sergente Quadro Non ci capisco molto Uh, Coma Demoni Forma Shadow Side Quella? Ma quello è Coma Demoni del futuro, allora Che bello Ok, Cupida Ma vabbè Non ci può stare Ah, ne ho tre, ne ho Vai, allora vai Alla grande Ah, Grigia Eh, Grifacoloso Graficoloso Cosa ho detto Dai, l'ultima Ah Medicina disgustosa, eh Infatti Quello che mi è capitato è disgustosa Oh Emergenza Divinità Ci vuole Il livello 40 Per farla Questa è Amaterasu Ah Facciamo un po' Spera a volontà Ma facciamo gli Oni al completo Almeno facciamo qualcosa di divertente Ora Questa sarebbe solo da collezionare Più quanti più Spera Oni puoi E di sconfiggere 25 nemici Quindi io direi di Magari Farla Eccoli qua Gli Oni al completo Vai, sconfiggiamo I tre Oni Anche se l'obiettivo Mi dava Nerorco Che strano Belli Ah ma così Bello Ma è bellissimo così Wow Ma è fantastico Sì vabbè Vai andiamo con loro Con gli umani Facciamo prendere le bocca Agli umani Che cosa è successo A scorpio ritardato È arrivato Vabbè Questi che fanno I Beyblade Vanno Io non lo so Si può faccioci però Senti Ce n'avevi uno dietro Coso Vabbè Comunque Wow Sono quasi per la trasformazione Ci vai 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 Ci vado Ci vado Ci vado Bene Da sola Ho fatto zucchi da solo Non me l'ha fatto scegliere Va bene E dai Vabbè però Che casino ragazzi Mamma mia Non ci si capisce niente Mamma mia È fastidioso Cioè allora Quando è così Troppo È confusionario È troppo così Per carità Mi piace Ma è così È troppo davvero Cazzatissimo Corosso Fatto Bene Oh Corosso è andato Vai Bene Vai Ami Yugi Dai che ce l'hai L'Energy Max Pronto Bene Bene Non l'ho preso come Bene Dai che poi Ora che siamo anche potenziati Facciamo anche più male Non dovrebbe Sancare molto Per bluetooth E infatti È andato Bene Oh quante scar Dammi 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 Che mi servono Ok Ok Questo è un po' amarino Però è andata È andata comunque Dai È andata bene Che poi qua C'è il limite livello Quindi più di 25 Non si può stare Dai Oh cavoli Che ho fatto Ahiaia Va bene Sì È morto di infarto Lo so che è una brutta cosa Però Cioè Stava tu lì Lo so che è stato Yami Yugi Però stava lì A un certo punto Corriva Clà Morto Livello 50 Sì sì Questi è matti Ah bene Magari La prossima volta Perché non vorrei Rimetterci le penne Oddio Si potrebbe fare Ma ci vorrebbe Troppo tempo Sì 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 sì